Il 18 e il 19 giugno torna Olivetti Aperti in tutta la Liguria e io sono qui per presentarvi i protagonisti dell'evento dedicato alla valorizzazione dell'olio Riviera Ligure DOP. Dal 3 al 17 giugno percorrerò in bike tutta la Liguria per visitare le aziende che parteciperanno a Olivetti Aperti, proponendo attività degustazione di olio Riviera Ligure DOP, prodotti tipici, eventi culturali e laboratori. Segui aspettando Olivetti Aperti, olio e pur Liguria. Tutti i giorni dal 3 al 17 giugno in diretta sui social e su Radio Babboleo per scoprire una Liguria in mezzo. Olivetti Aperti 18 e 19 giugno in tutta la Liguria, seguiteci sui canali social. Grazie a tutti.